Presentata ufficialmente a Parigi il 25 ottobre, la 111esima edizione del Tour de France che il 29 giugno 2024 partirà da Firenze. È la 25esima volta che il Tour parte da fuori della Francia, la prima volta nel 54 da Amsterdam e per la primissima volta in 121 anni di storia parte dall'Italia nello spettacolare scenario di Firenze. E ci sono molti aspetti iconici. Per la prima volta nella storia il Tour parte e attraversa un sito UNESCO. Il sindaco di Comune e Città Metropolitana di Firenze, Dario Nardella, è il presidente del Comitato Istituzionale del Grande Par del Tour de France 2024. Già nel 2013, quando era vice sindaco, si occupò dell'organizzazione dei mondiali di ciclismo a Firenze. Io devo dire che è un sogno che si è realizzato, un sogno che si è concrattato dopo 15 anni. E mi seguendo anche i messaggi che avevo messaggiato nel marzo 2020, dopo l'explosion della pandemia, a Christian Prudhomme, il direttore del Tour. E io gli ho scritto con un'immagine di Firenze completamente vide. Firenze è triste e bella. E io mi ricordo ancora il nostro ringrazio per parlare del Tour di Francia in Italia a Firenze. Dopo qualche anno, il sogno si è trasformato in realtà. E oggi siamo davvero molto emozionati di essere qui. E io penso che grazie a Florence, la bellezza di Florence, l'histoire di Florence e anche l'histoire del ciclismo che è liato a Florence. E io penso a Gino Barteli che ha raggiato due volte il Tour di Francia. Penso che noi possiamo dare all'edizione dell'anno prossimo una sorta di memorabile beautà e importanza. E spero veramente che il Tour che partirà da Florence resterà nel cuore di tutto il mondo per molti anni. Ed entriamo nel dettaglio dell'attesa verso il grande par. Il 21 marzo la città di Firenze si tingerà di giallo per un grande evento con l'avvio di un countdown digitale a 100 giorni dal via in Piazza della Repubblica. Il 27 giugno al Piazzale Michelangelo la presentazione delle squadre. Il quartier generale del grande par del Tour sarà al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. E ancora sabato 29 giugno il Tour de France prenderà il via da Firenze con un percorso dalle Cascine a Piazza della Signoria dove ci sarà il taglio del nastro e lo start istituzionale. La prima tappa del Tour da Firenze a Rimini passerà da varie località della città metropolitana di Firenze tra i quali Bagno a Ripoli, Pontassieve, Pelago, Rufina, Dicomano e Sangodenzo. Passando poi dal valico dei Tre Faggi la carovana gialla si dirigerà verso la Romagna. Il Tour de France darà una straordinaria visibilità a livello mondiale a questi territori. Oltre un miliardo di contatti in 190 paesi, 28 mila ore di diffusione nel mondo, gara in diretta su 100 canali tv. All'evento di presentazione la delegazione della città metropolitana di Firenze era composta dal sindaco Dario Nardella e dai consiglieri Cecilia Cappelletti e Massimo Fratini insieme al direttore generale Giacomo Parenti e a Jacopo Vicini responsabili degli eventi del Grand Depart del Tour de France 2024. Per la comunità ospitante del Grand Depart presenti a Parigi anche il presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio e il sindaco di Torino Stefano Lorusso.